Taglia Cozzo, uno degli appuntamenti più importanti della Marsica, ma ormai non è un eufemismo dire dell'Abruzzo ed è anche per l'Italia. Ci ritroviamo qui per la conferenza stampa di presentazione della manifestazione che raccoglie un consenso enorme generale e siamo con il maestro Jacopo Sipari di Pescassero. Maestro, si riaprono finalmente le porte e si rinizia con una manifestazione davvero di un'importanza grande, grande, grande. Assolutamente sì, io sono emozionato perché, come lei giustamente diceva, trovarci qui ancora una volta noi insieme a tutti i nostri ospiti e amici a Taglia Cozzo, che è davvero una delle perle più splendenti di Abruzzo, a parlare di musica, di cultura, una cosa che fino a questo anno e mezzo probabilmente abbiamo in parte anche dimenticato a causa di tutto quello che ci è capitato e devo dire è forse l'augurio più bello che ci potevamo fare. E questo programma così straordinario di cui tutti parlano in realtà è il risultato di dieci mesi di grande lavoro, ma è anche, come dire, il nostro augurio che tutto quello che abbiamo passato finalmente sia ormai un lontano ricordo e possiamo tornare tutti quanti ad abbracciarci felici, cullati dalla bellezza della musica. Ospiti eccezionali, musica di altissimo livello, diciamo che la pausa è stata poi generatrice di un grande lavoro. Assolutamente sì e su questo direi che probabilmente Kant aveva ragione, quando uno ha tempo per pensare soprattutto nei momenti di maggiore tragicità e che si partoriscono poi le cose belle. Quest'anno abbiamo cercato di veramente solliticare tutti i palati, quindi avremo grandi interpreti di musica leggera, da De Gregori alla Mannoia a Noemi, Capossela, tanta musica classica, Mario Biondi, tanta musica classica grazie all'orchestra sinfonica abruzzese, la Traviata. Ecco anche la scelta di un'opera che fosse in un certo qual modo tra le più famose e che portasse davvero un segnale di gioia a tutti quanti. E poi il teatro, le mostre e il tagliacozzo che noi vogliamo, il tagliacozzo che deve essere in un certo qual modo la perla più preziosa non solo d'Abruzzo, come lei diceva, ma anche e soprattutto d'Italia. Un abbraccio a tutti per accedere alla cultura. Assolutamente sì e vi aspettiamo a Tagliacozzo. E se non con l'assessore alla cultura di questa splendida cornice che è il Palazzo Ducale di Tagliacozzo, con chi? Chiara Nanni, buongiorno, grazie per l'ospitalità. Si riparte? Si riparte veramente come si suol dire alla grande? Finalmente si riparte, sì, con un festival meraviglioso che già ha avuto grandissimo successo. Sono molto soddisfatta dei cinque anni trascorsi, ma soprattutto del risultato raggiunto. Abbiamo esaurito gli abbonamenti in 48 ore, già tantissimi spettacoli sono sold out. Quindi il festival piace e piace sempre di più. Si dice sempre che comunque la eco di essere così vicino alla capitale è un bel punto fermo di importanza. Ma in realtà coloro i quali accedono sono davvero provenienti da tutte le regioni italiane. Diciamo che Tagliacozzo è fortunato ad essere molto vicino a Roma e noi siamo stati veramente colonizzati dal turismo romano. Però negli ultimi anni quello che abbiamo visto è che veramente guardando le vendite dei biglietti provengono da tutto il centro Italia e non soltanto. Quindi si viene a Tagliacozzo per il festival, quindi non solo un veicolo di promozione culturale, ma anche un importante veicolo di promozione turistica. E di questo siamo assolutamente onorati e fieri. Un grande sforzo per l'amministrazione comunale? È un grandissimo sforzo perché noi siamo una piccola città rispetto ad altre realtà di cui noi facciamo parte di Italia Festival e ci interfacciamo con Ravenna, con Matera, con Spoleto. Quindi è molto faticoso, però il risultato sicuramente ci ripaga di tutto. Quindi siamo a livello di grandi realtà festivalere, di grandi città e quando ci dicono questo cartellone non si vede neanche a Roma, quello ti ripaga di tutto, quindi va bene. Sì, cortile nobile di Palazzo Ducale a Tagliacozzo con il primo cittadino della città. Sindaco, si ricomincia. Si ricomincia dopo una pausa lunga, purtroppo lunga, ma si ricomincia veramente con i riflettori accesi tutti indistintamente. Io direi si esce allo scoperto perché non abbiamo mai smesso di organizzare e di pensare al meglio per questa estate di Tagliacozzo, che è poi un'estate che deve proiettare e trasmettere positività ai tanti ospiti che già affollano la nostra realtà cittadina e quindi siamo qui a presentare uno splendido programma della 37esima edizione del Festival Internazionale di Mezzestate. Un programma ricco di appuntamenti, sia di musica classica, sia anche di musica leggera. Poi lascio i nomi naturalmente agli addetti ai lavori, all'assessore alla cultura Chiara Nanni, al direttore artistico Jacopo Sipari, ma siamo veramente orgogliosi di presentare un cartellone eccezionale. Qualcuno mi diceva neanche la città di Roma ha una manifestazione estiva così ricca di personalità del mondo, dello spettacolo, del teatro, della cultura in generale. Di questo ne siamo orgogliosi e questo è il nostro regalo, il nostro fiore all'occhiello, il fiore da cui deve rinascere appunto la società italiana sicuramente. Taglio Cozzo nel suo piccolo offre questa grande opportunità e questo grande regalo a tutti i concittadini che vorranno farci visita in queste settimane. Il Festival di Mezzestate è sempre stato un festival che ha richiamato. Ultimamente sta raggiungendo dei picchi veramente che vanno oltre frontiera, come ne accennavo prima, e che abbracciano veramente il desiderio di partecipazione da parte di tutti, non solo gli amanti di un determinato settore. Ciò anche però nasce da un grande sforzo lavorativo dell'amministrazione e non da poco. Un grande sforzo che inizia subito dopo l'ultima serata, quindi è uno sforzo che si porta avanti coralmente da un anno a un altro. Devo dire che insomma il lavoro tecnico è affidato all'assessore alla cultura, appunto Chiara Nanni, unitamente al direttore artistico Jacopo Sipari, che durante l'anno gira il mondo e quindi riporta poi in estate qui le novità. Ma è vero anche che tutti gli assessori sono coinvolti, l'assessore alle politiche sociali Alessandra Di Girolamo, che ha accoptato tramite un bando alcuni giovani con delle borse di lavoro. È coinvolto l'assessore ai lavori pubblici, naturalmente, che ci aiuta nell'organizzazione tecnica, Roberto Giovagnorio. È coinvolto l'assessore al bilancio, che naturalmente reperisce i fondi che sono assolutamente importanti, Giuseppe Mastrodi. Come sono coinvolti, ad esempio, il consigliere Jacoboni per l'innovazione tecnologica e tutta la parte di divulgazione sui social, sul sito del Comune. E l'assessore Colizza, il consigliere Colizza, che naturalmente è presente anche quest'oggi, che è un valido supporto anche a livello culturale per la scelta degli argomenti da trattare. Chiedo a lei, nella conclusione di questa chiacchierata, che gentilmente mi ha concesso, anche di ricordare che tutto è sotto vaglio di quelle che sono le norme di sicurezza ed è tutto con prenotazione obbligatoria. Assolutamente sì, e di questi aspetti della sicurezza se ne occupa in prima persona, unitamente ai tecnici preposti dall'ufficio tecnico, anche la Presidente del Consiglio, Anna Mastrodi, che sovrintende a tutte queste operazioni e unitamente all'ufficio di segreteria comunale e alla direzione amministrativa del Comune di Tagliacozzo. Siamo pronti, a breve, la 37esima edizione e questa sera, naturalmente, sabato 24 luglio, Gianni Schicchi, un omaggio, l'opera di Puccini al trentesimo canto dell'Inferno.